Salve a tutti, sono Elena e oggi vi mostrerò come disegnare sul piano cartesiano un semplice polifono. Per far sì andiamo sul sito georgebra.org e poi prendiamo Geoclassic e ci sfonderà direttamente un piano cartesiano. Poi andiamo sull'icona A e prendiamo punto. Per esempio facciamo un polifono A, poi B, C e D. Poi prendiamo qui e facciamo segmento e uniamo i punti. A con B, B con C, C con D e D con A. E ci sfonderanno direttamente le coordinate. E poi qui a sinistra, oltre le coordinate, ci spunta la lunghezza di ogni singolo lato. Grazie per l'attenzione, arrivederci e al prossimo video. Grazie. Grazie.